Oro blu è il termine con cui sempre più spesso viene indicata l'acqua, un riferimento esplicito alla sua importanza, sempre più crescente a causa del cambiamento climatico. I dati dimostrano l'esiguità di questa risorsa rispetto alla presunta disponibilità. Il 71% della superficie terrestre è coperta da acqua, di cui il 3% è dolce. Solo l'1% però è accessibile per l'utilizzo umano, con grandi disparità tra le varie zone del mondo. Da qui la necessità di sensibilizzare sulle tematiche inerenti all'utilizzo e alla gestione dell'oro blu. È il compito della giornata mondiale dell'acqua, istituita dall'ONU nel 1992 e nella giornata del 22 marzo. Le riflessioni che scaturiscono da questa ricorrenza riguardano anche il territorio ligure. Prendiamo il diciannovesimo rapporto nazionale sul servizio idrico integrato curato da cittadinanza attiva e riferito al 2023. Secondo i dati, la Liguria è la terza regione del nord per perdite idriche, rappresentanti il 40,1% dell'acqua immessa nelle tubature. Ancora peggiore è la situazione delle tariffe del servizio idrico integrato. Qui il rapporto calcola una media del prezzo e il suo aumento percentuale, prendendo come parametro di riferimento un consumo di 182 metri cubi annui. Nel 2023 questo consumo di acqua è costato in media 495 euro alle famiglie liguri. La cifra non si discosta troppo dalla media nazionale, ma balza all'occhio l'incremento percentuale della tariffa dal 2019 al 2023. La Liguria è la terza regione in Italia per la maggiore variazione, ben 37,9%. Lo stesso dato, declinato però ai capoluoghi, mostra un aumento in peria dell'88%, mentre a Savona del 67,6%. Solo Isernia ha fatto meglio in tutta Italia, con una crescita della tariffa del 94,5%. Genova e La Spezia si fermano rispettivamente a un più 23,5% e un più 11,3%. Sul fronte della gestione delle risorse idriche, le criticità liguri riguardano i grandi invasi. Secondo i dati della ricerca Blue Book 2024, la Liguria, con 60 milioni di metri cubi, è la regione con la capacità massima invasabile e interamente autorizzata più bassa. Inoltre, gli impianti hanno l'età media più alta sul suolo nazionale, 92 anni. Il quadro che emerge delinea criticità strutturali, dettate da un territorio storicamente difficile ma che beneficerebbe da investimenti adeguati, ancora più urgenti dopo gli ultimi effetti del cambiamento climatico, che hanno colpito con prolungate fasi siccitose il ponente ligure.